Le campagne del nostro territorio ancora sotto la morsa della siccità. Senza piogge ormai da settimane, con le temperature ben sopra la media, nei campi marchigiani e provinciali un po' tutte le culture sono in sofferenza, tanto che alcune aziende hanno deciso di ricorrere alle autobotti, a lanciare l'allarme e la col diretti Pesare Urbino. Di Sante, chi ne ha sentito maggiormente di questo caldo? Beh, la difficoltà è su tutte le culture, ovviamente partiamo di chi ne ha più bisogno, come l'orticoltura, ma il girasole quest'anno purtroppo in tutta la sua produzione vegetale non ha mai avuto pioggia, quindi è un paradosso. L'erba medica ha avuto uno sfalcio due in meno, a seconda delle zone, quindi anche le stalle sono in forte difficoltà, perché anche gli animali con le alte temperature, perché oltre all'assenza di pioggia siamo vittime di temperature più alte della media, quindi anche gli animali in stress idrico o in stress di alte temperature producono anche meno latte, quindi le difficoltà sono tante e le aziende stanno subendo dei grandi danni. A farne le spese sono anche gli oliveti e i vigneti che nella nostra provincia possono contare su una produzione di altissima qualità, come l'olio extravergine di oliva e le doc del vino. Pure orti e fruttetti risentono del caldo, ma anche delle condizioni meteoverse. Le alte temperature in questo momento stanno facendo dei danni ulteriori, perché la pioggia non c'è da tanto tempo, dove è arrivata su certe zone nelle Marche ha creato danni, perché poi ci sono questi eventi anche, nel senso che ci sono delle bombe d'acqua o grandinate, e quindi i danni sono anche maggiori. Qual è la fotografia nella nostra provincia e quali soluzioni si potrebbero adottare? Danni che diciamo che bisogna intervenire nella gestione dell'acqua come bene comune, perché di fatto purtroppo dalle reti dei comuni, che hanno perdite veramente importanti, anche il 40%, è chiaro che nella zona nostra, a parte la diga di Mercatale, eccetera, che andrebbe ripulita per aumentare la capacità d'acqua, non abbiamo altri invasi. Quindi con i fondi del PNRR bisogna lavorare in maniera preventiva, bisogna rendersi conto che questa situazione ormai non è più straordinaria, ma avviene ogni anno e quindi quando ci sono queste bombe d'acqua, con piccoli invasi, tutelando quindi l'ambiente, bisogna cercare di cooptare l'acqua piovana. Una situazione ogni anno sempre più grave, aggiunto poi Di Sante, un periodo così siccitoso non si era mai visto. A mio padre, pur non anziano, 68enne, gli è successo di piantare in diverse annate i vigneti nuovi, ma innaffiare vite per vite, come stanno facendo altri colleghi, non è mai successo. Quindi munirsi di autobotti per portare l'acqua o nelle stalle o in altre parti di aziende dove l'acqua non c'è, non è mai successo nella zona né regionale né provinciale di Pesaro Urbino. Per concludere, da alcune settimane si è conclusa la stagione della trebbiatura. Anche qui, com'è andata? Anche i cereali un po' ne hanno risentito. Qualitativamente abbiamo le proteine molto alte, i pesi specifici rispetto agli anni scorsi sono un pelino più bassi e la quantità ha avuto un calo del 15-20%, quindi anche qui un calo di produzione con i costi maggiorati nella produzione, perché di fatto il gasolio agricolo se a novembre lo pagavamo 64 centesimi, adesso come aziende agricole lo paghiamo 1,50 euro al litro. Quindi i costi aumentano in maniera stellare e purtroppo i guadagni diminuiscono.